Ma guardi, a me fanno ridere le cose per cui uno entra al Nazareno, entra da qualcuno e va a parlare con Renzi e Renzi tratta con un condannato, scusi perché sono io il primo e Baldassarre il primo che va a parlare con Renzi, si ha parlato con Beppe Grillo, si ha parlato Di Maio, si hanno parlato con le nostre delegazioni, si hanno parlato con Bersani, allora non capisco se a qualcuno va bene, qualcuno può andare a parlare con Renzi e lì Renzi non è condannato per danno in reale, lì Renzi non fa nessun tipo di trattativa con il cavaliere Berlusconi, ex cavaliere Berlusconi e quando ci andiamo noi dopo un passaggio forte evidentemente di oggi, allora siamo trattati così, se mi dispiace. Grazie. 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 Arrivederci, buonasera.